si può amare la trigonometria beh io credo di sì soprattutto quando si scopre come la possiamo utilizzare nei nostri programmi per fare delle simulazioni e delle animazioni in particolare quando scopriamo ad esempio la possibilità di fare dei movimenti circolari tipo questa giostra con con i carellini che si spostano oppure quando vogliamo simulare delle orbite planetarie qui vediamo il sole al centro la terra che ruota intorno al sole e la luna che ruota intorno alla terra come è possibile fare questo tipo di animazioni o addirittura opere di arte generativa un po più complesse ma vedete anche molto scenografiche e torniamo alla domanda come è possibile fare queste cose con la programmazione grazie alla trigonometria ea due semplici formule possiamo fare cose di questo tipo vediamo un po facciamo una parte di introduzione teorica molto breve poi andiamo subito ad applicare le formule che scopriamo in p5gs allora come abbiamo capito ad esempio da questa animazione delle orbite il problema nasce quando noi vogliamo far muovere un qualcosa su un percorso circolare quindi ad esempio l'orbita questo pallino lo vogliamo far spostare su un'orbita circolare ora per noi sarebbe semplice disegnare questo punto qui sugli assi perché abbiamo le coordinate in particolare qui l'origine degli assi lo 00 si trova al centro il raggio uguale a 200 quindi le coordinate di questo punto sono x 200 e y 0 quindi sapremmo disegnarlo stessa cosa dicasi se ci mettiamo il il punto sugli altri assi sapremmo disegnare qui sarebbe x 0 y 200 e così via il problema nasce quando noi vogliamo muoverci sulla circonferenza e quindi dobbiamo trovare tutti i punti che caratterizzano il movimento quindi a quanto sarà uguale questa coordinata e questo ce lo dice la trigonometria grazie a trigonometria noi possiamo trovare questi punti e in particolare la trigonometria non fa altro che mettere in relazione gli angoli con i triangoli e i lati e i lati ogni volta che noi ci spostiamo come vedete si crea automaticamente un triangolo quindi spostandoci sul sull'asse diciamo vediamo che si si crea un triangolo spostandoci sulla sulla circonferenza e questo triangolo come è costituito è costituito dal è un triangolo rettangolo quindi il l'angolo di 90 gradi si trova qui e questo è l'angolo al centro la il raggio della della circonferenza in questo caso dell'orbita è l'ipotenusa e sarà sempre uguale ovviamente e poi abbiamo due cateti questi due cateti si chiamano cateti opposti il cateto opposto è quello che è di fronte all'angolo al centro quindi opposto il cateto adiacente è questo qui sull'asse delle diciamo sull'asse delle x è adiacente all'angolo al centro e poi c'è l'ipotenusa in particolare se noi volessimo vedere quali sono le coordinate ve le faccio subito vedere sono questo 155 125 come vedete la coordinata x si sta sta diminuendo mentre sale e la coordinata x y sta salendo quindi se io se io mi sposto vediamo le coordinate che via via si si muovono la x 128 108 via via che saliamo sulla circonferenza la x diminuisce la y aumenta torniamo quindi alla nostra alla nostra circonferenza avevamo che diciamo partendo dal da questo schema si possono trovare una una parola mnemonica che so i kai toa che può aiutarci a ricordare il significato di questa di queste relazioni tra angoli e cateti di un triangolo si si chiama il seno di alfa e il rapporto che c'è tra l'angolo tra il lato il cateto opposto all'angolo al centro e l'ipotenusa quindi un rapporto tra tra due tra due lati si chiama il coseno di alfa il rapporto che c'è tra il cateto adiacente e l'ipotenusa la tangente si chiama tangente di alfa il rapporto tra i due cateti opposto diviso adiacente e in particolare si capisce possiamo anche metterlo meglio che quindi questa cordi queste le coordinate del punto chiamiamo l'ix sulla circonferenza e il punto y sulla circonferenza sono le chiamiamo le proiezioni di questo punto sugli assi x e y come vedete praticamente la x corrisponde al al cateto che si crea qui sotto e la y al cateto quindi opposto equivalgono quindi se andiamo a sostituire le formule dove la o appunto è l'x l'yc e la i è il raggio e così via otteniamo le nostre formule magiche quelle che ci permette ci adesso di andare su p 5 g s e e provare a creare una simulazione di questo tipo quindi le coordinate x e y di un punto su una circonferenza sono date dal coseno dell'angolo per il raggio mentre la coordinata y è data dal seno dell'angolo per il raggio detto questo andiamo subito a crearci un un progetto di p 5 g s e facciamo una prova quindi creiamoci innanzitutto un le variabili x virgola y che adesso poi andiamo a definire che saranno le coordinate del del cerchio centrale immaginiamo che vogliamo fare l'orbita vogliamo fare una simulazione come questa quindi facciamo un sole è una terra che gira intorno al sole diamoci una variabile per fare il raggio dell'orbita quindi raggio orbita e diciamo mettiamoci un valore 150 mettiamo il background a 0 facciamo un canvas leggermente più ampio così possiamo ora quello che facciamo e cominciamo a disegnare il sole al centro e quindi il sole lo facciamo innanzitutto giallo e quindi facciamo un fill yellow bene e ora facciamo il nostro circle lo mettiamo al valore di x virgola y e poi il diametro adesso non l'ho definito mettiamo 30 ora dobbiamo ancora definire x e y e quindi quindi tenete conto che mentre qui l'origine degli assi lo 0 0 al centro sappiamo che su p5 js l'origine degli assi è in alto a sinistra quindi per disegnarlo al centro impostiamo qui nel setup i valori del centro del canvas quindi x sarà uguale alla larghezza del canvas mezzi vediamo se abbiamo il nostro cerchio facciamo un po più grande magari 50 sì ok adesso abbiamo il nostro cerchio ricordiamoci le formule che abbiamo visto prima dove la x è uguale al coseno dell'angolo per il raggio e la y è uguale al seno dell'angolo per il raggio allora innanzitutto ci siamo creiamoci anche una variabile a come angolo e lo impostiamo a 0 e qui diciamo a p5 js di usare la l'angle mode ossia il modo in cui trattare gli angoli gli angoli possono essere misurati in gradi o in radianti per definizione p5 gs li usano in radianti noi lo impostiamo in gradi così la cosa è un po più semplice quindi degrees e adesso dobbiamo disegnare una una terra quindi però prima disegniamo l'orbita allora l'orbita e la mettiamo qua sarà un no fill perché altrimenti va a no fill altrimenti andrà a impallare il nostro sole e facciamo un circle e in questo caso sarà x y ma raggio dell'orbita raggio o abbiamo chiamata così deve stare al centro quindi deve stare qui vediamo un po non lo disegna perché ci manca il colore del bordo quindi facciamo stroke possiamo farlo bianco ora quello che succederà è che noi avremo l'orbita però ci viene scontornato anche il sole allora innanzitutto siccome questo è il raggio dobbiamo fare raggio per 2 in realtà il circle è il diametro ok e qui dobbiamo una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo togliere lo stroke quindi facciamo no stroke e quindi abbiamo l'orbita e il sole adesso dobbiamo mettere il nostro pianeta terra su quest'orbita un modo quindi facciamo terra in questo caso ci prendiamo queste istruzioni e diciamo che la terra è diciamo la blu non si trova a x y perché diciamo non si trova qui facciamo più piccola innanzitutto ma si trova a x ad esempio più il raggio dell'orbita ok quindi la vediamo che sta assolutamente però questa questa istruzione non ci permetterà di spostarci sulla circonferenza perché abbiamo visto che le istruzioni sono queste trigonometriche per muoversi per muoversi sulla circonferenza quindi ce le riportiamo qui per comodità ciao pulizia del codice e quindi cominciamo a scrivere ci facciamo delle variabili per così x t e y t per le coordinate della della terra quindi qui scriveremo x t e y t prima di eseguire l'istruzione del cerchio andiamo a definire i valori di x t che è il coseno dell'angolo alfa per il raggio dell'orbita ma vediamo che adesso ci ci manca ancora qualcosa proprio per il fatto che non stiamo al centro degli assi e la stessa cosa di casi per y t ora se io applico queste così come le ho prese da dall'esempio applico queste due istruzioni mi troverò in una posizione un po strana nel senso che non come vedete non coincide perché qui manca in realtà l'origine degli assi l'origine degli assi non è più 00 che si trova lassù perché lui sta disegnando dall'origine degli assi più 150 quindi da qua più 150 sta facendo il contrario invece noi gli dobbiamo dire che il nostro origine degli assi è x quindi dobbiamo aggiungere x e dobbiamo aggiungere y in questo caso perché l'origine degli assi si trova qua e quindi y t non è il coseno ma è il seno e quindi adesso abbiamo la terra sull'orbita proviamo a modificare il valore dell'angolo e vediamo che modificando il valore dell'angolo io mi sto spostando sulla circonferenza e se mi metto a 90 gradi mi troverò così quindi volendo creare la nostra animazione devo semplicemente far crescere il valore dell'angolo ogni ciclo ogni sessantesimo di secondo in questo caso e quindi lo vedrò percorrere la circonferenza quindi è sufficiente avere queste due istruzioni per poter fare qualsiasi tipo di movimento circolare anche spostandolo perché se io metto se metto questo questo raggio diciamo il valore del della posizione del centro degli assi se io lo sposto mi sposto automaticamente adesso se io qui metto più 10 e più 10 sarò disassato rispetto a e quindi a un certo punto vedete che il pianeta la terra fa un'orbita diversa se metto più 100 quindi avrò questo tipo di orbita ok quindi mi posso divertire in tanti modi ora facciamo un esempio quindi commentiamo tutto questo codice facciamo un esempio di immagine per il momento statica per fare un'immagine statica dentro il loop cioè per non far dentro il ciclo di draw per non far ripetere ogni volta io posso mettere alla fine come istruzione finale no loop oppure semplicemente fare tutto nel setup ora immaginiamo di voler fare partiamo con la nostra quindi commentiamo tutto questo pezzo di codice facciamo una distribuzione circolare all'interno di un cerchio quindi tutto questo codice è commentato abbiamo il nostro cerchio l'idea qual è? è quella di fare tantissimi cerchi che però siano distribuiti tutti qui intorno cos'è che possiamo fare? prendere questa istruzione queste due istruzioni metterle qua e fare ad esempio un ciclo for quindi facciamo for var vogliamo fare un certo numero ad esempio 100 n minore di 100 vogliamo fare 100 cerchi dentro l'orbita quindi ci prendiamo tutte queste istruzioni e vediamo un po' di riuscire a fare questa allora prima di tutto il raggio sarà dal centro alla circonferenza il nostro raggio sarà diversificato perché se lasciamo sempre questo raggio e ad esempio mettiamo random solo l'angolo quindi diciamo che l'angolo che ha è uguale a un valore casuale che va da 0 a 360 quindi possiamo dire 360 se lasciassimo questo tipo di equazione insomma di istruzione avremmo tutta una serie di cerchi che percorrono l'orbita se ci diamo anche una variabile questo tipo di ci creiamo una variabile qua per il diametro potremmo anche dire che il diametro anche il diametro lo facciamo casuale quindi facciamo random non facciamo 0 perché è troppo piccolo facciamo un random che va da 3 a 20 e quindi avremo questo tipo di distribuzione un po' casuale aumentando ovviamente il numero avremo ora avremo tanti cerchietti qui intorno ma in realtà cos'è che vogliamo fare noi vogliamo distribuire tanti di questi all'interno del cerchio quindi il che significa che dobbiamo anche rendere casuale il valore del raggio dell'orbita quindi raggio orbita uguale random 120 così stiamo all'interno che è 150 il raggio della nostra orbita e quindi la nostra distribuzione incomincia qui possiamo aumentare a 500 quindi potremmo ottenere 120 facciamo di più a questo punto 145 e iniziamo a toccare quindi un qualcosa che può richiamare un bicchiere visto dall'alto con delle bolle tendenzialmente potremmo potremmo mettere qui anche il colore e per esempio la la trasparenza e ottenere degli effetti quindi questo è un modo per per usare la trigonometria in animazioni circolari o anche distribuzioni vi faccio vedere in conclusione e poi ci lasciamo che ad esempio è possibile disegnare dei cuori colorati quindi un cuore come vedete questo cuore non è un'immagine ma è una equazione parametrica fatta con seno coseno e questa qui sono le la funzione che ci permette di disegnare il cuore si può trovare sulla rete equazione parametrica per disegnare il cuore quindi vedete sono una serie di coseni e diseni che vengono e quindi ho fatto questo progetto interattivo ogni volta che si clicca si attiene il cuore oppure si può arrivare ad avere utilizzando in questo caso anche la tangente ad avere dei cuori che però si spostano utilizzando anche il valore della tangente quindi qui ho aggiunto l'asse z ecco vedete che abbiamo questi cuori che si spostano seguendo il percorso dato dalla tangente ok allora direi che adesso è venuto il momento di provare a creare qualcosa con P5GS e la trigonometria ciao